Essere catechisti oggi significa lottare con una realtà che è molto più difficile di una volta. E quindi bisogna avere un grande coraggio e generosità. Speranza. Seguire i bambini per la loro crescita spirituale. Gioire malgrado le difficoltà. Gettare i semi e aspettare che germoglino. Impegno nella fede. Stare insieme ai ragazzi. E tradurre sempre nei nuovi linguaggi ecco la lieta notizia. Trasmettere la fede. Però essere catechisti nel mondo moderno secondo me è andare controcorrente. Essere catechisti oggi significa portare la speranza del Vangelo ai bambini ma soprattutto alle famiglie di questi bambini. Oggi essere catechisti significa testimoniare Gesù. La gioia di riscoprire la bellezza di gettare un seme nel terreno. Per sciogliere i nodi della nostra esistenza ecco che è un po' buio, un po' tra virgolette disperata, per annunciare questa speranza che è Gesù Cristo che ci viene incontro. Gettore, adesso e nell'ora della nostra morte ha...